ciao ragazze ciao a tutte e a tutti allora nuovo video aul questo è un video aul profumoso ovvero non proprio profumoso ma quasi saponi e profumi prevetto una cosa se vedrete la busta di euro spin non euro spin ho preso già sapone profumi quindi pazienza perché non avevo trovato quella di sapone profumi che poi mi sono accorta che quella di sapone profumi è qui sotto il mio naso quindi non dettagli niente allora adesso vi faccio vedere quello che ho acquistato da sapone profumi allora la busta eccola qui ho preso dei vidal miele d'acacia e vaniglia questa qui man mano che li tiro fuori li metto su da qualche parte da qualche parte tropical sunset vaniglia e lime bagno doccia sempre vidal poi altro vidal sempre lo stesso miele d'acacia e vaniglia poi un penultimo vidal e ho terminato si aspettate un attimo scusate mamma ogni volta che non mi interrompe va bene lasciamo perdere che è meglio allora argano oil olio ovvero olio olio di argan biologico poi nutriente e rigenerante questo qua sarebbe e poi una maschera ma prima di farvi vedere le altre cose faccio vedere due doppioni due in uno libera della forfora piro tolì non lo so come si lega vabbè lasciate perdere che la mia la mia lettura fa veramente cagare ma vabbè te verde comunque questo qui è antiforfora non è aloe vera io pensavo fosse aloe vera invece è anche nine ma va bene lo stesso questa qui io devo prendere quella dell'aloe vera invece non l'ho trovato ho preso la prima che l'ho trovato e allora vera non è aloe vera no questo è zinco e piritone piritone te verde più te verde vabbè questa è veramente qui perché io un altro non trovo poi 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 un altro balsamo perché questi sono due in uno di shampoo di antiforfora questo è splendor oddio si vede un po troppo aspettate se non mi cascano tutti ok si splendor vi dicevo balsamo adolucente al cocco io adoro il cocco che non mi conosce ora lo dico subito a me il cocco mi piace da morire morbidezza naturale cappelli lunghi e ribelli e vai questo qui mi piace da morire poi come penultimo e non per importanza ho preso questo che l'ho visto tante volte in pubblicità vedete in pubblicità della nivea ed è una nivea corpo per pelle per pelli secca allora si si può anche richiudere buttare non so dove nella ovviamente nella indifferenziata crema corpo per pelle secca si 98 per cento ingredienti di origine naturale avvocato avvocato velutante si quanta ce n'è 350 ml di prodotto vedete questa è la la sua bella packaging questo è nivea e io l'ho voluto comprare perché mi ha catturato la tensione del del pack va bene non so dove metterlo e metterlo di qua poi non per importanza ma ho voluto prendere perché ho dei piedi che vanno ovviamente di età per non dire altro però perché fanno cagare ho voluto prendere questa per pelis per cap no per piedi secchi e sclepolati piedi maschi nutriente e con olio di lavanda dove sarà buonissima dona nutriente intenso nutrimento scusate dona un nutrimento intenso per piedi lisci e morti bisogna vedere poi farò la recensione quando la metterò in uso ok e niente vedete questa ce n'è un paio di non lo dice vabbè comunque un paio di maschere fanno al caso perché ne ho veramente di bisogno questa qui vedete e niente questo è quanto venti minuti di posa vedete c'è anche scritto qua quante volte ho detto vedete contatele venti minuti di posa new perché new per me è nuovo magari c'era già la prima comunque vi dico già i prezzi se non erro se non mi sbaglio allora la data di oggi è 14 6 2 21 le 10 e mezzo e 31 si allora quanto l'ho pagato questo nivea nivea di crema corpo 6 euro e 79 79 poi vabbè tutto tutto il resto abbiamo pagato il totale complessivo di 21 euro e 25 centesimi va bene ragazzi questo è quanto io ho dato 25 centesimi a posto così niente questo era il totale complessivo di quello che ho speso insieme a mia nonna io di questo però una breve routine dei miei piedi ma anche di anche altre cose personalmente siccome che l'ho visto dal canale di come insieme al canale fatemi pensare di Ivana Quartuccio Ruggero sì ciao Ivana se avete visto video ho visto che lei ha fatto una specie di spam non dal sitista una spam casereccia anche io vorrei fare una spam casereccia a casa mia qui appunto perché non vedo l'ora di vabbè a parte che dire mi ha fatto la mia spam off camera vero senza che registravo niente però in un altro momento se trovo il tempo e l'occasione vorrei fare un video spam magari ve ne parlerò vediamo tutti i prodotti che riutilizzo ok niente io vi lascio e ci vediamo a un prossimo video se vi è piaciuto il video mettete un like commentate iscrivetevi e attivate la campanellina ciao a presto un bacio ciao ragazze